ciao a tutti da Tony Sauf e Out of Beat oggi andiamo a vedere dopo tanto tempo una bella rom per Samsung Galaxy Note 4 il Note Onis precisamente parliamo della Dr. Keaton da non confondere con la Dr. Keaton Murt allora la Dr. Keaton's rom qui potete vedere i dettagli basata su Android 5.0.1 su base BOK 3 quindi non è l'ultimissimo firmware Samsung ma poco cambia insomma nulla di sostanziale cambia da un bocchino all'altro ok andiamo a vedere le caratteristiche questo ovviamente è il launcher nuova ma lo andremo a vedere nei dettagli allora vi faccio vedere gli screen che ho salvato nel frattempo giustamente vi faccio fare una carrellatina per vedere un attimino quelle che sono le caratteristiche macro estetiche insomma così tanto per dire vedete qui in questo caso è stato aggiunto il permission manager in modo tale da gestire i permessi ok posso continuare ragazzi a farvi vedere tutto il what nice poi dopo tanto ci ritorniamo ok andiamo a vedere gli screen e vediamo un attimino quello che Tony Souff ha salvato ok questa è la home che ci troviamo appena flashata la la rom ovviamente Goldrick non c'è troverete altro rom abbastanza allora mi è piaciuta e mi sta piacendo la tengo da quasi quasi una settimana forse pure più ho avuto un po di di problemi nel video recensire quindi devo dire che non mi ha dato mai nessun problema nessun tipo di problema funziona quasi tutto perfettamente tranne l'air gesture quindi l'air gesture non worka non capisco il perché abbia lo sviluppatore abbia deciso di mettere facebook vedete facebook instagram messenger e gestione pagine va beh deve essere uno appassionato di sti cazzo di social network va bene touch with swipe up è l'app che ci permette di dedicare con lo swipe diciamo nel launcher ad una determinata app questi gli screen che vi dicevo prima instagram messenger e gestione delle pagine qui vediamo le app che ci sono appena installata la rom in questa paginetta troviamo quelle diciamo base che troviamo dappertutto con l'aggiunta di evernote non so se evernote è partito già il ripristino delle mie app ma se non sbaglio no comunque tutte le google app come vedete non è molto deblottata quindi anzi ha comunque delle app che possono essere scaricate dal play store a parte tipo a me facebook twitter instagram non scusate scusatemi facebook e instagram messenger per facebook non li uso quindi avrei gradito non non averle o comunque a poterne scegliere qui iniziamo a vedere praticamente le app dedicate la dottor chi dottor chitan utilities extra setting power menu e rom control oltre a samsung csc e secure setting e super user ok poi le andiamo a vedere nel dettaglio dottor chitan utilities qui ci permette di personalizzare ulteriormente la rom l'andiamo a vedere prima velocemente poi ci andiamo a impilagare nelle varie app questa è semplicemente uno screen dei power toggle il menu esteso dei power toggle qui ho segnalato l'aggiunta di quelle cose in più l'air gesture la torcia floating messages connessione rapida s finder che sono stati tolti dalla dalla barra come potete vedere tranne la luminosità che è stata lasciata dottor chitan power menu per riavviare il terminale rom control in questo caso è possibile implementare ulteriori feature res nella rom nella rom la rotazione a 360 gradi cazzi mazzi 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 cioè è molto personalizzabile questa roba mi è piaciuta perché lo sviluppatore a parte il fatto che credo che sia uno con le palle mi è piaciuto molto 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 perché c'è parecchia carne al fuoco cs scusatemi csc feature res read this before us qui in poche parole ci permette un'ulteriore personalizzazione della rom poi l'andiamo a vedere quindi stay tuned questo è secure settings che serve è tipo un lama è tipo un task come cazzo si può chiamare un'automatica un'app che a determinate azioni o su determinate condizioni effetto a determinate azioni è tipo lama io conosco bene lama lo usavo prima diciamo che è simile super user vabbè lo conosciamo altri screen del 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 launcher come vedete è stato aggiunto il tema come sugli altri launcher il widget di questo tipo ho fatto qualche screen sul su qualche widget ma insomma è probabile pure che sia già presente nel firmware stock purtroppo il firmware stock l'ho usato talmente poco che lollipop parlo lollipop che quindi ogni tanto mi confondo però voi siete molto più pratici di me il widget della torcia in questo caso i temi quindi la possibilità di impostare il tema con relative icone dr kitan extra setting quello che vi dicevo quindi la possibilità di ulteriormente ampliare le personalizzazioni della rom ce n'è un po' per tutti i gusti ancora il praticamente qui i toggle dove è possibile personalizzare qui la status status bar e altri dr kitan colors questo è un sub menu sempre dell'app che stiamo vedendo questo uno screen delle impostazioni in questo caso avete visto c'è praticamente qui la barra la barra in alto è diciamo non temata scusatemi la barra in alto non è temata in questo caso l'ho modificata e quindi l'ho evidenziato come è possibile personalizzarla ovviamente poi quando arriveranno delle notifiche si sovrapporranno quindi tenete conto che questi bug comunque ci sono perché non è stato ottimizzato tutto per mission manager ok e info sul dispositivo il riavvio avanzato comunque già c'è quindi il power menu di dr kitan è un po superfluo dr kitan rom reboot cats e mats l'abbiamo visto vedete la sovrapposizione che vi dicevo prima insomma succede man mano che ci sono più notifiche viene come possibile amplificato questo questo piccolo bug grafico però insomma organizzate la posta dei collegamenti veloci nel diciamo task manager in questo caso la torcia inserita nelle impostazioni i font molti font qui la possibilità di accendere la torcia tenendo premuto il tasto volume in più questo per il blocco no che cazzo è la ricarica blocco schermo il cazzo è is floating messages ok lo sappiamo ai registri che non funziona quindi viene abilitato ma non funziona boh io ci ho provato e non work detto questo io ho finito di farvi vedere quelle che sono le caratteristiche principali andiamo a fare una scrollatina dei cazzo scusatemi andiamo a fare una scrollatina andiamo nelle app mettiamolo un attimino sotto scusatemi andiamo nelle app vediamo un attimino quanto tempo ci mette a caricare considerate che sempre che sotto c'è un sistema di registrazione che gira come vedete qualche laggettino c'è scusatemi qualche laggettino c'è però tutto sommato vedete c'è nel momento in cui viene viene caricato e se il mio dito non preme cose che non deve premere va va tutto diciamo in linea con tutte le rom e io fulmini non ne ho visti di rom maratona non è vista andiamo a vedere nello specifico le caratteristiche di di questa rom andiamo a vedere le dr kitan utilities qui in questo caso siamo nei toggle e possiamo impostare incoming call record outgoing call record in automatico auto gps insomma per quanto riguarda i toggle i tasca quindi le fs bag backup data fix sd card flash record facebook rom altre impostazioni come vedete air wake air wake up e altre minchiatine varie quindi diciamo che c'è questo tipo di possibilità extra settings che quello che vi stavo facendo vedere inter meter inter meter e tutte ste cazzatine però sono 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 belle c'è comunque permettono un'ulteriore personalizzazione della rom power menu ve l'ho fatto vedere insomma potete usarlo così rom control per esempio la possibilità di mettere i recenti in questo modo vedete praticamente le i collegamenti veloci ok di abilitarli oppure oppure la rotazione a 360 gradi adesso non lo faccio perché sennò si sputtana tutta la registrazione abilitare tutte le app in multi windows e il sound mode qui potete ulteriormente amplificare l'audio del vostro del vostro del nostro mostri ciattolo e altre personalizzazioni penso che la parola che dico di più quando faccio le recensioni e personalizzazioni secure settings qui ragazzi c'è da scervellarsi io prima di iniziare la la registrazione ho provato in qualche modo a studiarmelo un po però non ha avuto né tempo né voglia quindi però permette ripeto di automatizzare alcune azioni sul terminale e super user vabbè non ve lo faccio manco vedere perché sarebbe uno schiaffo alla nostra intelligenza ragazzi io credo di aver detto tutto questa rom mi è piaciuta molto e l'ho trovata in linea con tutte le altre a livello di fluidità di consumo batteria diciamo che sono tendenzialmente un po deluso del dall'uso della batteria di del terminale del note 4 cioè comunque sia non riesco ad arrivare a sera con il mio utilizzo andiamo a vedere un attimino il dettaglio della batteria giusto per curiosità di oggi due ore e 35 sono al 45 per cento ma cinque ore non arrivo a farle vedete la mia durata media è di quattro ore per il ciclo di ricarica ed effettivamente è così qui segna che oggi dovrei fare 5 ore e 22 ma ripeto rispetto a g2 e g3 da cui provengo sono un pochettino deluso allora vado a dare il giudizio a questa rom come potete immaginare mi è piaciuta molto quindi per me questa rom non è maramai onchi non è la classica l'olipipotto non è fonsi nel senso che è una bella può essere una bella rom ma è sicuramente una bomba c'è questa rom è una bomba ok questa rom è una bomba ragazzi fate i bravi fate i bravi e niente come vedete qui c'è sta tutto c'è sta un amico mio c'è sta un amico mio e che vi posso far vedere no ma tanto io non sono romano io sono terrone terrone 100 per cento terrone ragazzi vi ho fatto vedere tutto adesso provo a caricare sta romettina e vediamo un attimino cambio rom e vediamo che cosa flashare vi ringrazio mi raccomando seguiteci sul nostro canale youtube sul nostro forum l'android globo forum e sulla community cercate l'android globo auto beat nella community oltre alla community di antonio donizof giordano ciao ragazzi fate e bravi e mi raccomando per si è sempre tusto